Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati sul mio canale, oggi torniamo finalmente, me l'avete chiesto in tantissimi, con la carriera, nuovo episodio, molto importante Vabbè, mo chi è adesso? Pronto? Eh, stavo fa, stavo registrato in me Un raduno? Eeeh, non lo so, sono un po' incasinato sti giorni, perché dimmi, cioè, quando lo volresti fa? Sabato Ma sabato questo? Eh, boh, guarda, non... Più no che sì in realtà, perché sono un po' incasinato, c'ho pure la festa di mio cugino, a che ora sarebbe? Dove? Dalle 15.30 in poi a Piazza del Popolo, chi c'è? Ideopless? Boh, però, non te lo so dire, cioè, sinceramente non lo so, facciamo un'altra volta Come? Ci stanno le ragazze? Ci sto Ragazzi, quindi, il messaggio è stato chiaro, abbiamo deciso di fare un raduno, visto che ce l'avete chiesto in tanti, in particolare a me, ma comunque è un'idea che mi stava balenando in mente da tanti mesi Più o meno da quando l'abbiamo fatto quest'estate al calcetto, insomma E visto che è stata una bellissima esperienza quest'estate con voi, con alcuni di voi, ma soprattutto con i ragazzi Abbiamo pensato di fare una sorta di replica, ma senza calcetto stavolta, come ha detto il buon Coom Paradise sulla sua pagina Facebook l'altra sera Abbiamo pensato di fare un raduno in cui staremo insieme, cazzeggeremo, faremo prank alla gente, magari facciamo un citofonare alla gente in live Stupendo E, però, però, noi siamo furbi Abbiamo pensato che, giustamente, per quanto riguarda noi abbiamo anche una minoranza, però ci sono anche delle ragazze che ci seguono, no? O per i videogiochi o per gli altri video Quindi, essendo magari meno interessate le ragazze al calcetto, fare di nuovo una cosa al calcetto sarebbe stato un po' ripetitivo e comunque controproducente per le ragazze E quindi abbiamo pensato di fare la Piazza del Popolo, quindi saremo in centro, appunto, ci potremo divertire, fare il bordello come al solito E potete venire tutti, è gratis, quindi, cioè, che cazzo aspettate? E, appunto, vi ripeto, sarà sabato 20, questo sabato, alle 15.30, dalle 15.30 in poi, a Piazza del Popolo Quindi, se volete, potete contattarmi in privato, sulla pagina Facebook, che si chiama Fede Marconi Ve la lascio qui in sovraimpressione e soprattutto in descrizione Oppure sul profilo privato, che si chiama Federico Marconi, vabbè, lo sapete A partecipare saremo, per quanto riguarda gli youtubers, io, Rudy Zlatan, Spad One, Coom Paradise, Noxer, l'incredibile Noxer Che non conoscete, però, presto sul mio canale uscirà un video insieme a lei, perché è una ragazza e ci sarà comunque anche lei Il Verna, i Deopless, non so se li conoscete, sono comunque due bravissimi youtuber e vi dovete assolutamente iscrivere al loro canale, ragazzi Perché mi pare giusto, quindi trovate il canale in descrizione, solo il loro, non quello degli altri, ma quello degli altri Però iscrivetevi, perché tra l'altro i Deopless ci saranno al 90% Quello restante 10% consiste nel fatto che Simone, uno dei due, forse lavora Se non lavora, viene al 100%, però visto che non si sa, voi venite, così se lui non ci dovesse essere, comunque andiamo tutti al lavoro e lo facciamo licenziare Altra cosa importantissima, ragazzi, io ho fatto l'evento su Facebook, ho creato l'evento su Facebook Che si chiama Raduno a Piazza del Popolo, una fantasia della Madonna E comunque, appunto, potete trovarlo sia in descrizione che nei commenti, perché se non in descrizione ci andate Quindi trovate nei commenti il link dell'evento su Facebook Cliccate partecipa se sapete di poter partecipare, in modo che ci facciamo un'idea Senza che mettete 150 partecipi e poi venite in 20 E mettete mi interessa se non sapete se partecipare, ma vi andrebbe E mettete like a questo video, va bene? Quindi io vi ho dato le dovute informazioni, vi ricordo che in descrizione trovate tutte le cose utili Contattatemi se avete dubbi, io spero veramente con il cuore di vedervi Domani uscirà la carriera per davvero, visto che nell'intro ve l'avevo fatto un po' capire Se no poi mi ammazzate E niente, per il momento è tutto, io vi rimando domani al prossimo video Ci vediamo assolutamente sabato con un video la mattina Perché il pomeriggio poi dovete stare tutti lì all'evento E quindi la mattina alle 10 uscirà un super video Il pomeriggio tutti all'evento E la sera a Mignotte Ecco, probabilmente l'ultima parte no Però, visto che sto dicendo una marea di cazzate Posso salutarvi per davvero, vi lascio con un brano Non recentissimo, però comunque Un gran bel pezzo E quindi bella regà E spero di vedervi presto Ciao a tutti, un bacione Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti